buongiorno siamo a pavia per la certosa di pavia e c'è una bellissima giornata e facciamo un giro microscopico all'interno della certosa sicuramente non si potrà riprendere però la scuola è una scuola che fa bene, non si potrà riprendere però non si potrà riprendere però Dopo non tapia oggia e cielo brutto oggi finalmente c'è il sole solo che io non mi sono tanto fidata perché sono un po' di giorni che volevo fare un giro con la moto solo che appunto non è che mi fidassi tanto di questo ciuilo così e quindi non sappiamo bene anche noi cosa fare dove andare siamo venuti qui a fare un giretto a Pavia solo che non sapendo gli orari della messa praticamente ci hanno cacciato via subito perché appunto c'è la messa quindi adesso andiamo a fare un giretto a Pavia e poi vediamo non lo so è una girata un po' così però c'è il sole 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 in questa domenica di nulla dove non sappiamo cosa fare dove andare perché il jammy è venuta fame e quindi ha messo su trip advisor una trattoria osteria locale siamo in un paesino sperduto nel paese dove non c'è assolutamente nessuno infatti come vedete lì dietro c'è la macchina del jammy e tutto intorno non c'è nulla la cosa pazzesca dell'italia però che dove ti giri ti giri due sole cose da fare andare in chiesa e mangiare la prima l'abbiamo trovata e la seconda eccola cioè in questo paesino di nulla comunque c'è questa chiesettina che guardate non riesco a farvela per vedere bene sembrerebbe anche molto carina vedete eccola comunque è il nulla più assoluto diciamo che stiamo facendo un po' un vlog vecchio stile cioè la pina in giro a fare una meritata telecchia colgo l'occasione per dire che sono su snapchat cercatemi pina la peppina vi voglio numerosi ho dei capelli orrendi vero io mi lo metto sempre dei capelli quando faccio i vlog perché il problema è che ho lo schermino comunque adesso andiamo in trattoria a mangiare e boh non lo so poi forse faremo un giretto per palia perché tra l'altro io ho mal di testa della madonna e il jammy si è spaccato la schiena quindi siamo anziani siamo anziani questa vita social non fa per noi sempre la chiesa la macchina del jammy saluta una delle cose che mi ha detto il jammy per farmi ricordare che siamo già state a pavia e mi ha detto ma come non ti ricordi siamo a pavia c'è il castello comunque alle mie spalle io ho siamata come a un entertaine c'è ilivamente bene mi ha detto di essere subito io ho un pezzo io ho vi hingeluato qui ho cominciato io ho trovato già c'è il modoель io davvero ce che l'ho allora lo sapete vero? e qui nel cartello di Pavia c'è anche un parchettino e ci sono queste fantastiche piante verdi che a me fanno impazzire perchè mi sembra tipo vedi uuuuhhh e siamo sotto dentro agli alberi ed è una cosa che faccio da bambina e mi fa troppo impazzire vedete quando c'è il bianconiglio che passa all'interno in verde bellissimo vedete Grazie a tutti Grazie a tutti C'è una festa per i bambini E praticamente è tutta la musica che sentite Perché ci sono i bambini che fanno piazza Stiamo dentro a capterlo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti